Si è riunito oggi nella sede di Via Verdi il Consiglio Comunale di Napoli presieduto da Raimondo Pasquino. Nel corso della seduta sono state ratificate all'unanimità le delibere di presa d'atto e riapprovazione del progetto esecutivo Napoli Blues Festival ed Etnos, mentre a maggioranza è stata approvata la deliberazione sulla variazione di bilancio e presa d'atto del finanziamento ministeriale del progetto Sportello Cittadino per Immigrati. rinviati per ulteriori approfondimenti l'approvazione del regolamento per l'assegnazione e ingodimento dei beni immobili del Comune e gli indirizzi per la gestione dei servizi cimiteriali. Su proposta del Vicepresidente Fulvio Frezza, l'Aula approva invece all'unanimità un ordine del giorno sul mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Barra. Con la seduta odierna ha preso il via anche il nuovo servizio di diretta video via web delle sedute di Consiglio Comunale realizzato interamente in auso dal personale dell'Ufficio Stampa del Comune. Le prossime riunioni del Consiglio sono state fissate dalla conferenza dei capigruppo al 5 e 14 novembre con due monotematiche dedicate allo Stadio San Paolo e a Bagnoli.